Riccardo Fruscella del Boiano arriva a questo pareggio sofferto, ma il Boiano ci ha messo il cuore nella ripresa per riprendere una partita che è stata difficile e combattuta. Sì, il misto ci ha sempre detto di non mollare mai, infatti non abbiamo mollato mai, è arrivato il gol di Ciccio, è arrivato sul finale, abbiamo provato a vincere, ma non ci siamo riusciti. Un giudizio su questo campionato che il Boiano vuole conquistare dal punto di vista della salvezza per rimanere in categoria, ma si dimostra combattuto ed incerto fino alla fine. Sì, è un campionato molto difficile, ce la dobbiamo mettere tutta e ci proveremo a salvarci. Un giudizio infine su questo gruppo, sempre giovane ma trainato da ragazzi esperti della categoria. Sì, ci sono ragazzi esperti come Ciccio, Mariello, Peppe che ci trascinano sempre di più ogni allenamento.